Aria pura, sembra proprio di respirare aria pura. Quello che a prima vista può sembrare il set di un film horror è in realtà una delle strutture più creative dell'Expo di Milano. Siamo nel padiglione austriaco dedicato all'elemento più vitale di tutti, l'aria. Si può sopravvivere 5 settimane senza cibo, 5 giorni senza acqua, ma nemmeno 5 minuti senza aria. Con questi alberi noi produciamo ossigeno per 1800 persone all'ora, aria fresca. Tutto questo ossigeno arriva dai 12.000 alberi di tutte le taglie piantati nel padiglione austriaco. Per ridurre le emissioni di anidrite carbonica, i più grandi sono arrivati dall'Italia, i più piccoli dai vivai in Austria. La nebbia che vedete è prodotta in modo artificiale e ha un effetto refrigerante. Niente di meglio per chi cerca una pausa dal caldo estivo e dalle lunghe camminate nell'Expo. Niente di meglio per chi cerca una pausa dal caldo estivo e dalle lunghe camminate nell'Expo.